eccoci qui quando si parla di profumo di di odorare di abbellire di sentirci belle felici super fashion la bio profumeria aquilana è sempre con voi e no non vi mollo e neanche per il cambio armadio in questi giorni ci avete derubato delle card per di odorare armadi e cassetti e già perché è arrivata l'ora di fare questo benedetto cambio armadio cambio stagione e allora sono qui per ricordarvi di tutti i nostri prodotti per deodorare e abbellire anche i vostri armadi e cassetti andiamo a vedere allora abbiamo in tantissime profumazioni il profumo concentrato per la lavatrice ne basta un tappetto dove insieme o a per sostituire il vostro ammorbidente per profumare tutti i vostri abiti perché dopo che abbiamo fatto la polizia del nostro armadio mettete i nostri abiti pronti per la bella stagione puliti e profumati nel nostro armadio oltre il profumo per la lavatrice c'è anche il profumo per quando ci sono tutti i tester nel negozio per quando mettiamo piegamma panni li rimettiamo nell'armadio per i nostri divani per tutta la nostra tappezzeria per i nostri tappeti per i nostri per le nostre tende la possiamo prendere della stessa fragranza del profumo per la lavatrice abbiamo ovviamente come vi ho fatto vedere il card da mettere all'interno dei nostri cassetti e dei nostri armadi e poi molto molto interessante abbiamo anche le sfere per l'asciugatrice ma potete metterle anche nella lava asciuga troviamo il concentrato del nostro profumino preferito da spruzzare proprio sulle sfere per amplificare il profumo che abbiamo scelto auguro a tutte di fare anche un bel decluttering del vostro armadio di buttare via tutte le cose vecchie che non vi valorizzano e di tenere solo le cose più belle